Palla canestro Per il mio compleanno mio zio mi aveva regalato un'attrezzatura completa da palla canestro, con una vera rete che si bilava ogni volta che riuscivo a infilarvi un tiro. Mio zio rischiò qualche frattura per inchiodare il canestro all'altezza regolamentare di tre metri alla quercia centenaria del nostro giardino. Quando ci riuscì io mi lasciai sfuggire un urlato di gioia e dissi «Zio, devi aiutarmi a fare pratica, me lo devi!» Per aiuto intendevo che mio zio giocasse nel ruolo di avversario e presso mi meravigliai della sua bravura. Riusciva a fare più canestri di me. Un'esplosione di gioia mi travolse quando vinsi la mia prima partita che mio zio aveva fatto del tutto per perdere. Quando divenni uomo, vivendo a bagnomaria nella mia vita priva di amore, ripensai all'ultima volta che vidi mio zio che venne a trovarmi con un passo lento e a tratti, insicuro. Ricordai quanto aveva lavorato per me senza mai risparmiarsi e mi chiesi che vita era stata quella di mio zio. Mi risposi che lui, a differenza di me, aveva scavalcato la mente e aveva amato tutta la mia famiglia senza chiedere nulla in cambio. Grazie a tutti.